Con la sospensione dei campionati dilettanti e gli appelli, o meglio dire le lettere aperte di Cosimo Sibilia e Carmine Zigarelli che invitano i club a fare squadra tra di loro per eliminare il diffondersi del coronavirus, le società hanno sposato le parole dei due leader del calcio dilettante ed hanno deciso di fermarsi anche negli allenamenti. Dalla Serie D alla terza categoria si è dunque fermato ogni tipo di assembramento. Le squadre si sono anche attrezzate con la sanificazione degli spogliatoi. Il tutto però non basta, serve avere senso civico, senso che le società hanno trovato tra di loro. Se tutto finisse davvero le 3 aprile e tutto tornasse alla normalità, saremo tutti più contenti di ricominciare a vivere un'emozione dei 90 minuti, l'emozione di una gara di calcio. Diversi i team dei campionati nazionali, regionali e provinciali che, attraverso i propri canali social, hanno annunciato di fermarsi. C'è chi invece, come alcuni club del San Tommaso, che merita ND, alcuni di promozione, per citarne alcuni, Gesualdo e le mandamentali Baiano e Caro Danuto, hanno predisposto allenamenti individuali a tutti i tesserati, sospendendo, come giusto che sia, le attività associative.